in questo momento la cacania è la nazione più invidiata dell'universo intero è il paese dove il sogno di tutta l'umanità fin dai tempi delle caverne passando per la schiavitù poi per lo sfruttamento del lavoro minorile del primo capitalismo poi per l'epoca in cui si lavoravano dieci ore al giorno per sei giorni alla settimana su su fino ai contratti di lavoro di 40 ore settimanali il sogno dell'essere umano appunto e per una volta senza distinzione di vedute tra uomini e donne è sempre stato quello di essere liberato dalla fatica del lavoro e ora finalmente in un paese dell'emisfero boreale il sogno è diventato realtà si lavorerà un mese all'anno e gli altri 11 si andrà in vacanza la settimana lavorativa comincerà il venerdì mattina e alle ore 17 dello stesso venerdì la settimana sarà terminata questa rivoluzione copernicana è stata possibile grazie alla scoperta sensazionale che i quadrifogli ripeto i quadrifogli che crescono nei prati della cacania sono una fonte energetica 10 mila volte più potente del petrolio e 10 volte più performante dell'energia atomica un mazzetto di quadrifogli è sufficiente per andare in auto da fortuna capitale voi lo sapete della cacania fino a milano e ritorno per un totale di 18 mila 750 chilometri la cosa incredibile è che i paesi confinanti della cacania non hanno questa fortuna cioè i quadrifogli che crescono nei loro prati si limitano a portare fortuna sarà vero e chi li avrà trovati ma non hanno alcuna altra proprietà benefica e tantomeno energetica la scoperta è stata fatta da un contadino che stava bruciando le serpaglie del suo orto ha gettato sopra una manciata di quadrifogli appassiti e ha notato che il fuoco non smetteva di ardere allora ha strappato dal terreno altri quadrifogli in cacania crescono solo quadrifogli mentre sono i trifogli ad essere rari e ricercati e via appiccicato il fuoco che ha bruciato per 18 ore senza spegnersi ovviamente gli scienziati del paese hanno studiato il fenomeno e successivamente in base al risultato dei loro esperimenti sono riusciti a mettere a punto un sistema di sfruttamento energetico della loro straordinaria materia prima ora la cacania vende energia in tutto il mondo addirittura il principale fornitore mondiale di energia pulita tra l'altro le casse dello stato non si sono mai riempite così tanto realizzando un surplus finanziario straordinario da permettere appunto ogni cittadino di lavorare solamente un mese all'anno inutile dire che tutti vorrebbero emigrare in cacania il problema è che nessun cartografo sa dire dove la cacania si trovi potremmo formularlo come desiderio e chiedere al primo trifoglio che troveremo di esaudircelo Giacomo Floretti allora io ben trovati signori questa è l'ora solare e questo è questo straordinario meraviglioso attore regista scrittore sceneggiatore fatte arrossire persona fatte arrossire sia sono piccolo col naso grosso poi con faccia rossa non va bene non va bene la nave di teseo più un allegro sconcerto Giacomo Floretti questo è un libro un altro libro che questo formidabile ragazzo ha scritto va bene il formidabile ragazzo va bene va bene non esagerare non esagero non esagero cerco di comportarmi bene scrive anche per testate come avvenire il corriere della sera per esempio aldo giovanni e giacomo è proprio è proprio una oggi si direbbe un hashtag no è tutta è una cosa tutta unita ma all'anagrafe egli intanto grazie di essere qui ripeto perché sei stai facendo nelle tante cose che stai facendo hai avuto tempo anche per noi all'anagrafe nasci come Giacomino è facile da dire perché i miei genitori mi hanno portato dal parroco per essere battezzato il prete quando mi ha visto ha chiesto a mia madre come volete chiamarlo mia mamma ha detto Giacomo il prete ha guardato bene ha detto questo qui non va su sopra l'1,60 chiamatelo Giacomino però non ci credo è vero è vero ma si ma sai che quando mia mamma ha portato all'asilo tanto ha aspettato il quarto anno no mi ha portato lì la direttrice che era una suora appena mi ha visto voleva mettermi in incubatrice cioè per dire allora va benissimo va bene va bene e questo l'uomo e c'è come sempre lo studio assolutamente pieno dall'altra parte e tra le tante cose seriamente poi poi ritorniamo a sorridere tutte belle e tutte fatte belle e tutto bene che tu fai c'è anche questo un allegro sconcerto sono favole l'abbiamo appena sentito che raccontano delle verità che raccontano delle cose che non esistono luoghi che non esistono scritte così bene Giacomo così bene da te e com'è che sei anche bravo a scrivere tu dici eh ma che devo dire Come rispondo? Non lo so, posso solo dire che la scrittura è sempre stata uno dei miei giochi preferiti fin da quando andavo a scuola, elementari che si componevano i pensierini, poi alle medie i temi mi sono sempre divertito ma mai avrei immaginato che potesse diventare una parte del mio lavoro la scrittura quindi appena è possibile io scrivo Appena è possibile e scrivi e sei bravo anche a scrivere Come sei immediatamente bravo a recitare? E io provo a pensarti nelle recite scolastiche, no? C'è stato un istante in cui hai capito che quelle tavole del... No, ero un ragazzo timidissimo, molto timido Ma lo era anche Gassman? Appunto dico Certo, certo Quindi la timidezza mi ha sempre accompagnato Poi casualmente diciamo Forse neanche tanto casualmente, non lo so Mi sono iscritto ad una scuola di teatro a Milano E lì mi ricordo che ai primi tempi c'era questo maestro giapponese straordinario Con Yaki Ida che mi disse Dai adesso facciamo un'improvvisazione, no? Tu improvvisa un qualsiasi cosa e chissà come mai mi è venuto in mente di interpretare un primario chirurgo che tagliava pezzi E vedevo che la gente rideva Allora lì ho capito che forse c'era... Però ho continuato ad essere timido nella vita Sentite, facciamo una cosa Noi ci fermiamo soltanto per un attimo Poi questo ragazzo timido Sottolineo è un ragazzo, lo so, è vero Non bisogna dire ragazzo quando si sono superati i 22 anni Ma lui ne ha pochi di più E quindi noi possiamo sotto il suo sorrisetto, sotto il suo ridere, sotto ai baffi Lui sì che può farlo Possiamo raccontarvi quest'uomo che ci regala tanto buon umore e tanta saggezza Ci fa pensare anche quando lui va in giro in scarp de tennis Ma questa è tutta un'altra storia A tra poco, allora solare Giacomo, Giacomo Poretti Che bello poterlo dire In studio con noi E va bene Il corso da grande di teatro Lo congeliamo per un attimo Facciamo una marcia indietro Otto anni, più o meno così, recitano le tue biografie I tuoi tanti biografi scrivono così Tra cui te stesso Oratorio di San Giovanni Bosco e Santa Chiara Quindi bimbo di oratorio Un bimbo di oratorio le fa le recite? Sale sul palco dell'oratorio? Come no? Quindi già allora tu eri... Beh, diciamo che forse da lì è nato qualcosa Un semino che è rimasto lì nel cuore Che poi si è sviluppato Un po' di tempo dopo Io frequentavo l'oratorio come molti ragazzi Nella Lombardia, del Piemonte, del Veneto Hanno avuto la fortuna di fare E tra le tante cose belle che c'era nell'oratorio Il campo di calcio C'era anche un teatrino Come tutti gli oratori posseggono E il sacerdote Don Giancarlo Che era, ho detto tante volte Era più innamorato di Shakespeare e Pirandello Che non di San Pietro e Paolo E lui due volte all'anno Doveva allestire una commedia teatrale Gli attori erano praticamente le persone del paese Il gommista, il segretario comunale E un anno ebbe bisogno di tre bambini Perché dovevano impersonificare tre marziani Che arrivavano sulla terra E vedevano gli esseri umani che erano Già da allora Da sempre E questi tre bambini Dovevano avere delle caratteristiche Dovevano essere uno altissimo Uno grassissimo E uno bassissimo Io non ho dovuto neanche fare il provino La parte mi è stata assegnata Proprio di diritto E da lì Mi ricordo di aver partecipato a due repliche Era una cosa meravigliosa Mi ha fatto scoprire il teatro Le quinte Come comportarsi Come star fair Insomma è rimasto dentro il cuore Ti ha lasciato questa indicazione Sicuramente Ti ha lasciato questa indicazione In questo libro su cui noi torneremo tra poco Della nave di Teseo più Un allegro sconcerto In maniera semplicissima Tu fai una dedica Molto bella E molto diretta A tua moglie A tuo figlio E ai tuoi genitori Allora i tuoi genitori Che si sono sentiti dire Lo chiami Giacomino E va bene I tuoi genitori Che cosa ti hanno Qual è la cosa Sembra assurdo Parlando di papà e mamma Però la cosa più bella Che ti abbiano regalato Donato Nel loro modo di comportarsi Nel loro modo di essere Beh io Ricordo Un'infanzia Meravigliosa Bellissima I miei genitori Fortunatamente Mi hanno voluto bene Ci hanno voluto bene E pur nella Semplicità più estrema Perché I miei genitori Erano due operai Vivevamo in una casa Molto molto modesta E lo racconto Con molto affetto Con una lamentela Come in tante case Eravamo in un cortile Non avevamo il bagno Il bagno Ce n'era uno Era in un cortile E mi ricordo Che di sera Soprattutto in inverno Si uscì E dice Mamma Devo fare la pipì E magari c'era Mezzo metro di neve Bisogna fare 40 metri Per andare nel bagno E allora La mamma Falla qua Tanto poi Non la vede nessuno Solo la pipì Però Però è quel grado Di complicità Con la mamma Che è importante E' evidente Che da bambini Tutto si ingigantisce Tutto sembra più bello O più brutto Dipende da quel che vivi Io fortunatamente Ho vissuto Delle bellissime esperienze E quindi Ai miei genitori Tanto banalmente Debo la vita Ma Una vita bellissima Forse soprattutto Per la semplicità In cui Ci hanno fatto vivere Perché quello È un grande No Non è banalmente Debo la vita Assolutamente Ma Quello è un grande dono Che se soprattutto Vivi nell'amore Che loro ti danno Fa parte Della bellezza Del momento Poi però Quando cresci Quando diventi grande Lo consideri Una sorta Di lingotto d'oro Sì Sicuramente Perché poi Ci sono fasi Della vita Dove è necessario Magari staccarsi Dai genitori L'adolescenza È più perché uno deve diventare Se stesso E quindi magari I genitori si lasciano Lì un po' da parte Sono vissuti Con un certo fastidio A volte Sono ingombranti Ma poi Inevitabilmente Per tutti A una certa età Chi più Chi meno Intorno ai 30 Così Poi i genitori Vengono rivalutati È un autodromo Noi crediamo Di andare lontani Poi è una pista Che torna ai box Si torna indietro E lì torniamo E lì torniamo sempre Giacomo Ha lavorato Come infermiere Voi dite Sì lo sappiamo Però sentite Lavorare come infermiere Per 11 anni Dico bene E caspita È un lavoro Durissimo Difficile Complesso E grazie a questo lavoro Che hai fatto Hai interpretato Il primario Il chirurgo Impazzito Poi quando sei andato A scuola di teatro Qualche anno dopo Ma no Diciamo che poi Quando con Giovanni Conaldo Abbiamo creato Lo sketch Dei dottori Le mie conoscenze Pratiche Hanno aiutato No Però Sì È stato un lavoro Bellissimo Molto faticoso Ho fatto diversi lavori Ho lavorato Anche in fabbrica Ma Diciamo che L'ospedale È un lavoro Molto faticoso E quando c'è stato Il covid Che ci fu Quella famosa Foto Che credo Tutti ricordano Di quell'infermiera Esausta Addormentata Sulla tastiera Del computer O di quell'infermiera Che aveva i segni Della mascherina E lì si diceva In quei giorni Che c'era Talmente grave La situazione E il personale Scarseggiava Perché anche Il personale Si era ammalato Parlavano di precettare Gli infermieri Dio mio Fa che non mi capiti Non perché Non avrei risposto All'appello Ma perché Mi ricordavo La fatica La fatica La fatica fisica E anche mentale Nel lavorare in ospedale Perché Non si parla mai Della difficoltà Mentale Di lavorare Con gli ammalati Perché vedi persone Tu in turno di notte Che è peraltro Un tuo meraviglioso libro Lo racconti Però Ti passa davanti La vita E a volte Sei costretto Anche a dover Liberare la stanza Di una persona Che è stata Per tanto tempo Che tu hai tentato Con i medici Di curare A cui hai tentato Di stare a fianco Ecco Quella parte emotiva Magari a volte Noi non la Non la consideriamo Forse perché siamo Chiamati in prima persona A vivere In quel momento In ospedale Però Sì E anche credo Per una certa paura O rimozione Non si parla mai Volentieri Giustamente Della malattia E della morte Quindi Le si lascia Lì da parte Però chi lavora dentro Sono tante le persone Che lavorano In ospedale E a me Purtroppo Sono tante le persone Che subiscono i ricoveri O i parenti Che li accompagnano Ecco Devo dire che Per chi ci lavora Medici E infermieri È una scuola Sono convinto È una scuola Di umiltà Molto Molto Grossa È anche una prova Perché Quante volte È capitato a me O a tanti altri colleghi O medici Di essere chiamato Nel cuore della notte Perché suona un campanello Tu vai lì Magari c'è un vecchio Più verso i 90 Che non gli 80 Con una flebo Attaccata lì Cacchettico Non mangia più Non beve più Magari Si ha fatto i bisogni Nel letto E tu ti chiedi Ma perché Lo devo curare È inevitabile Che te la fai Questa domanda Poi fortunatamente Gli infermieri Li cambiano sempre Va sempre avanti Così Però In questo senso Diventa dura Oppure per i medici Immagina Magari dei primari Che hanno conseguito Laure prestigiose In tutto il mondo E quindi In un certo senso Ci si sente È trincea Ci si sente invincibili Quasi potenti Eppure magari Ho pensato a loro All'umiliazione Che sento La frustrazione Che devono dire A una moglie Guardi che Suo marito Non ce la farà Perché? Come? Perché è una sconfitta Anche per il medico Sicuro Sicuro Quindi Credo che la difficoltà Maggiore Sia quella Tu Hai questa Se lo dico ora Sembra zucchero E non vuole essere melassa Tu hai veramente Un grande cuore Ed è Forse anche per questo Che arrivi Dritto dritto Al cuore della gente È genetica I miei genitori Vabbè È genetica Va bene Allora ringraziamo i genitori Caro Giacomo Ringraziamo i genitori Allora Aspettate un attimo Allora Arriviamo a quando Dopo undici anni di infermiere E dopo tanta altra Vita Lavoro C'è quel momento In cui tu Pensi O ripensi All'oratorio E al tuo primo ruolo Da piccolo marziano Piccolo Perché avevi otto anni E quell'ironia Per nostra fortuna Decidi Di fare Teatro E siamo All'improvvisazione Dove tutti ridevano L'incontro Con Giovanni Storti E con Aldo Baglio Quindi l'incontro Che vi rende Un hashtag unico Per tutti noi Con Proprio Riconoscervi E Adorarvi Quando avviene? Allora Diciamo che Io mi sono licenziato Dall'ospedale di Legnano Nel 1985 Immediatamente Mi sono licenziato Per andare a lavorare In una compagnia teatrale Che faceva teatro È un saltone È un saltone Un saltone Triplo carpiato Triplo carpiato E i miei genitori Senza dirmi niente Mi hanno guardato Per dire Ma come Un Poretti Che Ha sempre fatto Nell'albero genealogico Contadini Operai Adesso che fai Il caposala Cioè come dire Fermati lì No Io me ne sono andato E dopo sei mesi Ero disoccupato Perché spesso Adoro Eh no Bisogna dirla Eh bisogna dirla No perché il teatro È una cosa bellissima Il mondo spettacolo Bellissimo Però è irto di ostacoli Tante difficoltà E soprattutto il teatro Dopo sei mesi E peraltro ho recitato Nel conte di Carmagnola E tu ben sai Una tragedia di Alessandro Manzoni Rappresentata solo due volte Nella sua storia Ci sarà un motivo No Ecco io Che cosa devo fare Qualcuno mi aiuti No Meraviglioso Ci sarà ben un motivo Perché un po' E infatti gli studenti Che andavano a vedere Questa cosa qua Tiravano petardi Molotine Basta Con buona pace Perché Però sì Certe volte Perché Manzoni Ha scritto le robe meravigliose Ma anche Cioè Il conte di Carmagnola Vabbè Va bene Il conte di Carmagnola Rappresentato solo due volte Solo due volte Tra cui una Tra cui una Rappresentata È meraviglioso E E poi da lì Ecco scusami No Ma ti prego Ho cominciato Con il teatro di prosa Ma poi fortunatamente A Milano In quegli anni Il fenomeno del cabaret Live C'era una ventina di locali Nella città E quindi Chi faceva l'attore Cominciava Si improvvisava E lì ho conosciuto I due analfabeti Che rispondono al nome Di Giovanni Storti Allo bagno Allora Sta accadendo proprio a me Mi sto divertendo tantissimo Pensate voi A casa È meraviglioso Perché tu hai detto Una solenne verità Continuo a pensare Al conte di Carmagnola Ma Dopo sei mesi Ero disoccupato Allora Uno dei motivi Per cui i genitori Ti guardano così Quando tu dici Sarò attore Non è Non credere nel tuo talento Ma è È un lavoro durissimo È un lavoro Dificilissimo Che non è quello del teatro È ancora un pubblico È più esigente Tu la stai edulcorando È più cattivo Te la racconto io A teatro Anche adesso Il pubblico del teatro Normalmente va a teatro Paga il suo biglietto E se anche non gli piace Quello che sta vedendo Cioè piuttosto Dorme Si addormenta C'è la moglie Sì Dentro di sé Dice che Caga Però non dice nulla E va Alla fine Applaude ipocritamente Non sono tutti così Gli spettacoli del teatro No per carità No Voi fate spettacoli Esatto Il cabaret è diverso Prudeltà Adesso Non te più Cioè c'è una sfida Tra il pubblico E il cabarettista Fammi vedere Se sei capace Di farmi Tienimi testa Però Giacomo Quello fa diventare Ancora più bravi Diciamo È come correre Qualcuno si è suicidato Qualcuno è andato avanti No Adesso non faccio i nomi Per carità Stiamo scherzando Ci mancherebbe altro Allora Succede anche Succede anche Che al debutto Proprio debutto Debutto Se io sono Se ho studiato bene Vediamo se hai studiato bene Al debutto Il Giacomo Poretti Si presenti Con una gamba rotta Che non è una trovata No no Di entrare No così Dice con le stampe Tu ti sei rotto Una gamba Prima della tua prima Della prima Con Giovanni Con Aldo E quindi di conseguenza Dovevamo Fare questa serata E io al mattino Giocando a calcio Sì Una partita Tutti quelli che hanno giocato a calcio Nel calcio dilettantistico La partita Otte e mezza D'inverno Ma freddo Non c'è riscaldamento Terreno ghiacciato Dolore Proprio Sono fredde anche le ossa Sì esatto Non ti riscaldi nemmeno Perché La prima corsa Un'entrata a gamba tesa Mi è esplosa la tibia Letteralmente E tu infermiere Subito hai sentito Hai capito E io ho capito Che per 40 giorni Non avrei camminato Con la mia gambetta Infatti Gesso Gesso Fin qua Eh si è Da lì Adesso non riesco a toccare con la mano Perché sono un po' Da lì a qua 40 giorni di gesso E quindi Alla sera Dovevamo andare in scena E sono salito in scena Con la carrozzina E con Giovanni Cornaldi Ci siamo inventati La ruota della fortuna No? Stai dietro Un po' di stupidate Stupidate però La tua gamba rotta La tua tibia rotta Ha dato uno spunto in più Bene Poi Poi è storia signori È storia Perché è storia Se io dico Tre uomini E una gamba Torniamo Ovviamente Non quella o un'altra Con Marina Massironi Regia di Massimo Venier Così è la vita Dico bene Segue nel 1998 98 E comincia Quel Quel rapporto Tra Il cinema Voi non smettete mai Di fare teatro Non smettete mai Di essere comunque Anche presenti a teatro Però il cinema Regala a tutti noi Quella possibilità Di vedervi Di vedervi E di amarvi All'istante Ecco Dopo tanti anni Non voglio fare la domanda Idiota Quindi non la farò Come vi spiegate Tutto questo Sono bene Le domande idioti Mi piacciono Ma sono specializzata Ma voglio dire No non volevo dire quello Per carità Come ve lo spiegate Tutto questo amore Ma amore Al primo colpo Perché amore Al primo colpo Sì lo so Ma lo percepiamo Anche adesso A tanti anni di distanza Non lo so Però se devo azzardare Un'ipotesi Immagino che I nostri personaggi Interpretati Molte persone Si identifichino O che capiscono Che siamo simili a loro Che non sono completamente inventati Non sono irreali Sono Almeno Riferisco Quello che molte persone Ci hanno detto Sembrate Gli amici di casa Sembrate E quindi Credo che ci sia Questa immedesimazione Immedesimazione E poi c'è C'è la bravura Ma quella Sapete Quello è talento Quello non dipende da noi È padre eterno Sì È un bacio sulla fronte A tutti e tre È certo A tutti e tre E ce lo chiediamo A volte viene da dire All'amico Chiedimi se sono felice Quella è un'altra opera Grande Nella quale Giacomo Incontra Don Eugenio Bruno Dico bene? Fin qui? Che è una figura Ma questa è la racconto Che è una figura bella Bellissima Importante Importantissima nella mia vita Perché Lui abbiamo fatto questo film Che sono felice Nel 2000 L'ha detto al mio ufficio stampa Dopo un paio di mesi Che il film era uscito Disse Ah c'è un posto a Milano Dove è un cineforum Dove vogliono che tu vada lì E io dico Che posto è? Sono i gesuiti Io dico Veramente Che palle E lei Lei disse Sono bravi Allora il fatto che lei Mi disse quella frase lì Sono bravi No? Bravi Fu un complimento doppio Interpretato da me Perché io avevo fatto Stabilità I suoi preti No E dicevi Ma insomma Torno a fare Il chierichetto E lei Che pure Non era proprio Credente Però sono bravi Allora Quella cosa Mi incuriosì E io andai A presenziare Alla proiezione Del film E c'era Questo padre Eugenio Bruno Che rimasi Rimasi sconvolto Dalla sua presentazione Dalla sua semplicità Dalla E che pensai Arrivai a pensare Ma questo è Totalmente Scemo O è Non mi usciva Ancora la parola Santo Ma O un genio No? Sì Poi l'ho conosciuto E padre Eugenio Bruno È diventato Il padre spirituale Mio Di mia moglie Ci ha Sposato Battezzato Nostro figlio È diventato Una figura Talmente importante Che gli ho Dedicato Il titolo Sostanzialmente Anche uno spettacolo Il primo spettacolo Che ho fatto da solo Era fare un'anima Perché La cosa incredibile Di quest'uomo Che sembrava O stupidissimo O genialissimo E che quando nacque Nostro figlio mio Di mia moglie Daniela Venne a trovarci in ospedale Quindi il bambino Aveva poche ore di vita E quando andò via Disse Guardandoci negli occhi Bene Avete fatto un corpo Adesso dovete fare un'anima E io lì pensavo Ma questo è proprio scemo Io ti adoro Perché è una frase Di una tale altezza Che uno diceva No Io ho detto Ma questa è una frase Che puoi mettere Nei santini Dai le vecchine Capito Poi invece quella frase lì Rimasta lì Rimasta lì Per anni Anni Non era affatto stupida Anzi Era una frase Immensa Una frase È una frase Che chiede un'operazione Immensa Che chiede Tutta una vita Di impegno E quando Ho fatto questo spettacolo Ovviamente poi Il finale Lo cito proprio E lui Parlo di lui La gente non lo sa Ma padre Bruno E lui Fare un'anima Diretto da Andrea Chiodi Un caro carissimo amico Anche lui In quanto a sensibilità Alla metà basta Nel senso Ce n'ha da vendere E Giacomo Porretti Che diventa papà E che dopo aver fatto Un meraviglioso corpicino Con sua moglie Daniela Decide di fare un'anima Su quel bimbo Perché così si fa Ma non fa soltanto questo Fa un percorso Importante Un amico Don Eugenio Bruno Come un amico È questa persona Che ha inviato Una cartolina Per il nostro ospite La vediamo insieme a voi È un privilegio Per me Vivere l'amicizia Con Giacomo Porretti Ci conosciamo Da circa 15 anni E da sempre Ho trovato in lui L'aiuto Anzitutto Per il pensiero Ricordo con piacere Quando lavoravo In Curia a Milano La possibilità Che ci regalavamo Al mattino Una volta al mese Più o meno In un baretto Nascosto Di dialogare Sul tempo Su quello che capitava Sulla fede Sulla situazione culturale Sulla condizione di vita Della nostra città E del nostro paese Un privilegio per me L'amicizia con Giacomo Perché so di aver ricevuto Di più Di quello che riesco a dargli Nelle varie avventure Che sto vivendo Da parroco Nel centro di Lecco Quando seguivo La comunicazione Della Curia di Milano O tuttora All'ente dello spettacolo Ho sempre avuto Da lui L'aiuto Per aiutare La gente a pensare Interrogarsi Su come è possibile La fede Nella vita di oggi Ecco E grazie Per questa amicizia Giacomo Ce lo diciamo Anche personalmente E grazie Per tutto il bene Che fai Per il nostro paese Con il tuo lavoro Con la tua Profonda leggerezza Monsignor Davide Milani Presidente Della fondazione Ente dello spettacolo Grazie Grazie Monsignor Davide Milani Don Davide Milani È un amico vero Abbiamo fatto Delle cose straordinarie Insieme Grazie a lui Io mi sono prestato Perché lui ordinava Io felicemente Eseguivo Abbiamo fatto Due eventi In piazza Duomo A Milano Quando c'era Il cardinale Scola Il cardinale Scola Meravigliosi Bellissimi Mi ha dato Don Davide Mi ha dato La possibilità Di parlare pubblicamente Di certe cose Che sono Che sono Difficili E tra l'altro Davanti ad una platea Così Che ti prende il cuore E piazza del Duomo A Milano È qualcosa di Paragonabile solo Allo stadio di San Siro È detto da te Ha il suo peso Paragonabile solo Allo stadio di San Siro Non chiediamo mai Quale sia la cosa Più particolare O più speciale Che una persona Possa raccontare Però sicuramente Dopo quel Fare un'anima Il percorso anche di Dell'avvicinarsi Alla fede Dell'avvicinarsi Insomma ci si avvicina Alla fede Perché delle persone C'è una magnifica poesia Di Trilussa Che Papa Giovanni Paolo I Recitò Nel suo ultimo Mercoledì A San Pietro In Aula Nervi Di questa vecchia cieca Che ti prende per mano E ti porta a lei Dove devi andare Quella è la fede Bisogna trovare Queste persone Così le si Ma infatti io Devo dire che L'incoraggiamento Definitivo E decisivo A rimettermi Nel cammino Della fede Lo debbo A mia moglie Daniela Che l'ho conosciuta Nel 99 E insieme Ci siamo dati Quel coraggio Reciproco Di imboccare Quella strada Poi Immediatamente dopo Abbiamo avuto La fortuna Di incontrare Padre Bruno Padre Eugenio Bruno Ma tanti altri Gesuiti Che sono lì Che Se mi permetti Li voglio ricordare Perché sono degli amici Ormai dispersi Ognuno a fare il suo lavoro Ognuno a fare il suo lavoro Padre Guido Bertagna Carlo Casalone Claudio Barretta E Ultimo Solo Temporaneamente Don Davide Milani E che adesso Il destino Curiosamente Me li ha portati via Tutti Che sono altrove Però Sono sicuramente In giro A fare A fare cose speciali Così come è capitato Di viverli Personalmente Io ti fermo Solo un attimo Giacomo Ci aspettate Vero? Vale la pena Vale la pena Aspettarlo Arriviamo tra un attimo Allora Giacomo Poretti È lui Prima di tornare A un allegro Sconcerto E a tutta La sua capacità Di scrivere Saper fare tutto C'è una cosa Che non sai fare? Cantare Cucinare Infatti a casa mia Io sparecchio Metto il lavastoviglie Beh già Sei un uomo Che sa fare la lavastoviglie Perché se no Mia moglie Mi fa un mazzo No ma adesso Adesso Giacomo Ti prego No È raro che un uomo Sappia fare la lavastoviglie È raro Di solito mettete Tutti i piatti storti Sono abbastanza bravo Abbastanza bravo Allora dunque Non sai cantare Non sai cucinare Poi Basta Sono un po' ostinato Ma questo non è un difetto Ah non è un difetto No non è un difetto Puoi dirlo a mia moglie Si chiama Daniela Per favore Allora Non è un difetto Non è un difetto Ha solo pregi Perché? Perché? Perché è arrivata Un'altra cartolina Per il nostro ospite E noi la lanciamo così Sapete Il direttore Stefano Lampertico Della Scarte Tennis Avete presente Lui Guardate un po' Ciao Giacomo So che sei ospite Negli studi di TV 2000 Per presentare Il tuo ultimo libro Beh Ormai sei uno scrittore Di un certo livello Cioè Anche di una certa altezza Quanti libri hai scritto Finora Cosa voglio dire Ti voglio salutare innanzitutto E poi voglio dire A chi sta A chi sta guardando Questa trasmissione Voglio testimoniare A chi sta guardando Questa trasmissione La tua La tua grande umanità Con tanta sincerità Ricordo anche con piacere La trasmissione Che abbiamo fatto insieme Proprio per TV 2000 Che si intitolava Scarte Tennis Incontri sulla strada Lì ci siamo Ci siamo anche Anche divertiti Abbiamo raccontato La Milano degli ultimi Abbiamo raccontato La Milano Dei più poveri Con le scarpe Da tennis Ai piedi Grande Giacomino Ciao Allora Stefano Lanpertico Direttore di Scarpe Tennis Street Magazine E progetto sociale Sostenuto dalla Caritas Ambrosiana E Caritas Italiana Anche questo hai fatto? Eh sì Perché è tutta colpa Sempre di Don Davide E Stefano Che sono delle belle presenze A Milano E mi hanno coinvolto In questo progetto Di parlare degli ultimi Gli homeless Noi a Milano Chiamiamo i barboni Il barbun Miracolo a Milano Vittorio De Sica Esatto E non è stato facile Non è stato facile Partecipare a quella Trasmissione lì Perché comunque Un conto è parlarne Teoricamente Un conto è andare a trovarli Per davvero Non è facile È un po' come La storia dell'ospedale Tornavo a quello Sei tornato Ti chiedi Ti chiedi Ma perché A quel camice Ma perché uno si concia così Ti viene da giudicare Ti viene da giudicare Ti viene da giudicare Invece non hai giudicato Sei stato meraviglioso Io ho un minuto e 57 secondi E ci rigodiamo tutti Meravigliosi Di Scarlet Tennis In onda su TV 2000 Dall'11 al 14 dicembre del 2018 Qui siamo alla mensa Della Caritas Ambrosiana Guardate con noi Siamo in compagnia di Luciano Gualzetti Il direttore della Caritas Ambrosiana Che ci ha portato in questo luogo meraviglioso Ma che cos'è? Un museo d'arte moderna contemporanea? In realtà è una mensa Per poveri Che abbiamo voluto Dopo Expo Per poveri? Certo È capitato anche a lei Per necessità Di dover approfittare Di quest'opera meravigliosa Sì per necessità Chiaramente uno quando arriva Qua ci sono le remore varie Così infatti mi sono fatto accompagnare Io la prima volta Non sono venuto da solo Come con la mano Però poi ho capito L'importanza C'è proprio la bellezza di questo posto La solidarietà che si ispira Quanti pasti riuscite ad elargire? Ogni sera 90 pasti In tutto abbiamo accolto 800 persone in due anni Di queste circa 200 erano senza dimora E con tutti questi siamo riusciti a toglierli dalla strada Qui si mangia veramente a un certo livello Grazie anche a Fabrizia e Ilegna Ma soprattutto grazie a Fabio Pisani Che niente po' po' di meno che lo chef del luogo di Aimo e Nadia Ci toglie una curiosità Ma come mai un cuoco pluristellato come lei? Ma perché viene in questo luogo? Utilizziamo la nostra creatività Con i prodotti che arrivano E quindi in squadra si crea la ricetta Sai che anch'io cucino? Veramente Posso se vuole posso suggerirle una ricetta Io faccio degli spaghetti al tonno Che sono una meraviglia Spaghetto al dente Tonno dal vetro non dalla scatola E poi dopo una spruzzatina di parmigiano Ma come il parmigiano? Ma allora è vero che non sai cucinare? E infatti Bravo Giacomo Bravo 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 Me l'ha bocciata subito Il parmigiano sul pesce Parmigiano sul tonno Guarda neanche io che non so cucinare arrivo a tanto No ma tu invece l'hai fatto Perché come ha detto Don Davide Milani Tu rendi tutto leggero La stessa leggerezza Ed è una leggerezza E' pieno di note questo libro Che con la nave di Teseo Più Ti ha portato a scrivere questo Un allegro sconcerto Perché qua dentro ci sono storie Che fanno ridere Che fanno pensare Che sono surreali Perché è un po' quel bambino marziano Della prima recita Adesso questo non c'entrava niente Ma l'ho voluto mettere io Cioè tu racconti Di luoghi strani Di alberi Che parlano Di cose estremamente poetiche Ma tutta questa è anche la somma Per forza Di tanti tuoi incontri Di quelle difficoltà che si hanno Anche nell'incontrare gli ultimi Ma penso di sì Gli ultimi anche intanto L'incontro che ho fatto Fortunatamente Da quando ho potuto fare questo lavoro Una delle cose più belle Sì la fama eccetera Però il fatto di poter conoscere Tante persone Che fanno cose diverse nella vita E che ti arricchiscono E questo libro qua È pieno di queste cose Che tu citi Sembrano cose fantastiche Fantasiosi In realtà È una cosa che mi sta molto a cuore Perché Ho l'impressione Che si stia perdendo Questa attitudine Alla fantasia Al coraggio di pensare Anche all'aldilà All'altrove A come potrebbero È solo una sensazione Oppure un po' una tragica Quasi certezza È quasi una tragica certezza Che sia Che sia un po' così Che Si rimuove intanto Si rimuovono certe cose Certe preoccupazioni E soprattutto Si rimuovono le domande fondamentali Che suonano come Una filastrocca ridicola Chi siamo? Dove siamo? Dove andremo a finire? Eccetera eccetera Però in realtà Queste sono Le uniche domande O tra le più importanti domande Che danno un senso Alla nostra vita Domandarsi Com'è che siamo capitati qua? Far cosa? Tu te la sei data Una risposta? Faticosamente Sì Penso di essermela data Anche se appunto In questo libro qua Che è pieno di tensione Di fede Verso l'altro Eccetera Però c'è una curiosità Perché noi Come la vecchina Che dicevi prima Che ti porta in giro Che non vedi Che non vedi O che Nell'attitudine della fede Sei abituato al silenzio Che a volte È assordante È pesante Questo silenzio Quindi Forse la cosa più dura È Pensare E accogliere Che L'ambito della fede È È È un altro ambito Esistente Noi adesso siamo abituati A pensare Se una cosa Non la vedo Non la tocco Non esiste In realtà Niente mai è stato falso Come questa cosa qua Perché se fosse così L'amicizia È indimostrabile L'amore per i figli È indimostrabile L'amore per il marito E la moglie Altrettanto Non c'è nessun esame Né una risonanza magnetica Né un attack Né una pet Che possa dimostrare Che io ami mia moglie Eppure E c'è Oppure che io Voglia bene Il mio amico Giovanni Storti Non c'è Quindi ci si deve fidare Di ciò che si dice Quindi Mai come in questo caso Siamo Nell'ambito del mistero Ma siccome noi siamo Gran parte Di mistero Questo non vuol dire Che non Comprendiamo Che non sappiamo È un'altra dimensione Che bella persona Che sei Giacomo Moretti Io adesso Ma bella 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 Sai No ma che poi Io so Tu sei così pronto Poi ti devo pagare Da bere Tante volte Capito Allora Fermatelo Fermatelo Meraviglioso Allora Luca Doninelli Gabriele Allevi Si parte dal 2019 In questo tuo progetto Col progetto Desidera Teatro Oscar Di Milano Quella è un tuo Sì Rubiamo ancora un minuto Sì Pensa che Intuito pazzesco Tre mesi prima del covid Apriamo un teatro Meraviglioso Ti adoro Perché Così si fa Ma così si fa Questo è il coraggio Te lo dice anche Un'altra cartolina Ma quanti cartoni Sarei Guardate C'è la posta intasata Sì c'è la posta intasata Mi sono sempre chiesto Come Come possa un individuo Passare da Fan Un personaggio famoso A suo amico Nel giro di Tre quattro secondi E quello che è capitato a me Quando Nel 2008 Mi trovavo Ai musei vaticani Intravi di Giacomino Poretti Di cui ero un fan Lo Cominciai a seguirlo Perché volevo farmi fare L'autografo Per portare poi L'autografo ai miei figli Per vantarmi Con i miei figli E niente A un certo punto Riuscii a trovarmi Solo con lui In una stanza E fingevo di guardare Un quadro Un quadro di Sutherland Ricordo perché Eravamo alla galleria D'arte moderna E In attesa Del momento Per assalirlo E chiedergli L'autografo Mentre Guardavo Questo quadro Di Sutherland Sentivo una voce Che disse Doninelli Girati Che hai un bacon Dietro le spalle Era Giacomino Poretti Che sapeva perfettamente Chi ero E In quel momento Diventammo Grandi amici Grazie Luca Dominelli Allora Questo Con Daniela Cristofori Poretti Tua moglie Lo spettacolo Funeral Home Tu fai Tutto Un bellissimo spettacolo Scritto con Daniela E' uno spettacolo Con a tema La morte E la vecchiaia Ma in maniera Come spesso i comici fanno Che trattano le cose più Eccovi qua E' molto poetico Anche E devo dire che lei Non lo dico per piageria E' più brava di me Quello spettacolo Davvero Davvero Non lo dici per piageria Lei fa tutt'altro Nella vita Sono io che la conduco Per questa perdizione Del teatro Lei fa la psicoterapeuta Non sono in cura da lei Cioè Capito No E Abbiamo fatto No Bellissimo Eccoci Bellissimo Sai che posso dire Posso fare una pubblicità Piccolina Ti prego L'8 di novembre Debutteremo sempre Al teatro Oscar Con uno spettacolo nuovo Che stiamo scrivendo Io e lei Il tema E' il lavoro Si intitolerà Condominio Mon Amour Per la regia Di Marco Zoppello Pensa Ci siamo imbarcati Questa cosa Se mi salvo Se non mi ammazzo Rivengo a trovarti Signori Giacomo Poretti L'ha detto Lo dico Lo promesso Tornerà Un mare di applausi Per lui Grazie 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 Di tutto Di tutto Applausi signori Applausi Applausi Bella quella foto Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti